L'ospedale di Penne continua a far parlare di sé. Da poche ore c'è stato un incontro di una delegazione dell'amministrazione comunale di Penne con il ministro Lorenzin per discutere delle novità. Noi riteniamo e vogliamo e battiamo i pugni sui tavoli della politica perché vogliamo che il presidio ospedaliero di Penne rimanga tale perché in una provincia, come dice la stessa legge, non può esserci un solo ospedale. Ci vogliono minimo due ospedali e riteniamo che quello di Penne sia il numero due come ospedale dopo Pescara. Abbiamo con il testo della legge alla mano espresso il desiderio che venisse effettivamente applicata la legge così come scritta. La nostra zona deve per forza di cose essere servita da un ospedale degno di questo nome, non da una specie di poliambulatorio come si vorrebbe ridurre il nostro ospedale San Massimo. Il ministro Lorenzin ha ascoltato le nostre richieste, ovviamente io non so come finirà questa cosa, però posso dire che l'impegno noi l'abbiamo messo e adesso aspettiamo fiduciosi che magari la cosa si possa risolvere favorevolmente. Coinvolgere tutti gli amministratori dei comuni che fanno parte dell'area Vestina proprio per dire, così come ho fatto poco fa, che questo ospedale deve servire per curare i cittadini di un'intera area, i cittadini che abitano in zone dalle quali è difficile raggiungere Pescara in un lasso di tempo particolarmente breve.